Le origine dello stemma del cavallino rampante. Durante la Grande Guerra, gli aviatori, divenivano assi al quinto avversario abbattuto e, come segno di rispetto, per onorare l'avversario, dipingevano l'insegna dell'ultimo sul proprio aereo. Il quinto avversario di Francesco Baracca fu il pilota di un aereo originario di Stoccarda il cui simbolo della città era la giumenta.